Il tema è un tema classico del diritto societario, i patti parasociali, un tema vecchio e nuovo al tempo stesso, vecchio perché credo che si sia cominciato a discutere della validità e dei limiti di validità dei patti parasociali subito dopo l'età del cori civile, con particolare riferimento a quei patti parasociali che vanno sotto il nome di sindacati di voto e di cui molti mettevano in dubbio la validità, quantomeno fossero sindacati deliberati a maggioranza. Ma nello stesso tempo è un tema nuovo per due ragioni sostanzialmente, perché i patti parasociali assolutamente ignorati, non contemplati, non menzionati nel cori civile hanno avuto una traccia sia pure estremamente sommaria di regolamentazione con la riforma del diritto societario del 2003. Ci sono due norme nuove nel cori civile che trattano dei patti parasociali sotto il profilo della durata e sotto il profilo delle forme di pubblicità per i patti parasociali di società che fanno appello al mercato del capitale di rischio. Ma nuovo anche per il fatto che mentre prima, quando si parlava di patti parasociali, l'attenzione veniva, si soffermava principalmente, se non esclusivamente, sui sindacati di voto, oggi la tipologia dei patti parasociali è quanto mai eterogenea. Ci sono diverse forme elaborate, ideate dai professionisti del settore, per cui il panorama è estremamente vario e variegato e questo crea tutta una serie di problemi nuovi, senza contare che anche i problemi precedenti sono tutt'altro che definitivamente risolti. Io mi fermo a questo punto perché non ho nulla da dire, vorrei lasciare subito la parola ai nostri relatori che sono il professor Nicola Briani, ordinario di diritto commerciale all'Università di Firenze e la professoressa Elisabetta Pedersini, associata a diritto commerciale, modenese di nascita, di studi e da molti anni professoressa di diritto commerciale all'Università di Trento. Sono nostri ospiti, sono di ritorno perché sono già stati i nostri graditissimi ospiti in altra occasione e hanno accolto nuovamente l'invito fatto dalla fondazione forense e di questo noi tutti siamo particolarmente grati. Quindi lascerei subito la parola prima di tutto al professor Briani, la relazione del quale ha come titolo i patti parasociali e legittimazione normativa e perduranti limiti di validità. Grazie al nostro presidente, sono particolarmente grato agli amici modenesi e al professor Bione per questo invito perché tornare a Modena cinque anni dopo, dire quattro anni dopo, la nostra riflessione sui finanziamenti dei soci e mi è doppiamente gradito. Innanzitutto perché Modena si ricollega in qualche misura al mio maestro Gastone Cottino che in questo Ateneo ebbe la sua prima cattedra e iniziò una scuola formidabile che ebbe proprio qui, probabilmente i suoi allievi più importanti, più autorevoli, di cui sono l'epigono. E dall'altra perché l'invito del professor Bione e tra l'altro su questo tema perché 24 anni sono, se mi posso indulgere un istante su un dato personale, mi ero presentato all'esame di ammissione al dottorato dell'Università Bocconi, nella cui commissione faceva parte il professor Bione, il tema che uscì allora fu i patti parasociali. 24 anni dopo, tanta acqua è passata sotto i ponti, anche personalmente, io nove anni faccio, 15 anni dopo, quel concorso di ammissione al dottorato venne nominato dal Presidente Tribunale di Firenze a presiedere un collegio arbitrale di cui facevano parte, come arbitri di parte, potete immaginare quanto tremassero, a chi vi parla, venne polsi due arbitri, due professionisti, due docenti e la statura di Pietro Trimarchi e di Berardino Libonati, che era per oggetto proprio un problema di validità dei patti parasociali. Dall'altra è passata tanta acqua sotto i ponti, dal punto di vista normativo, prima di tutto, e giurisprudenziale. Quando 24 anni fa la commissione ci propose quel tema per l'ammissione al dottorato, non esisteva una disciplina dei patti parasociali se non con riferimento alla rilevanza del patto parasociale ai fini della nozione di controllo, segnatamente nel settore poi antitrust, perché questo era poi l'ambito nel quale allora ci furono le prime embrionali forme di emersione di riferimenti normativi ai patti parasociali. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti perché abbiamo avuto quel fenomeno peculiare del diritto societario italiano, che anziché edificarsi dalle fondamenta è nato dall'attico nobile delle società quotate, perché la prima disciplina compiuta dei patti parasociali risale alla commissione Draghi, la commissione insediata dal ministro all'ora dell'economia, Carlo Azzelio Ciampi, piace ricordarlo, ma Draghi ogni volta diceva qual è la commissione Ciampi, ma Ciampi a sua volta ricollega il suo nome piuttosto all'esperienza di Presidente del Consiglio e quindi al testo unico bancario, quella che tutt'ora chiamiamo legge Draghi, che negli articoli 122, 123 tra l'altro con alcuni autorevoli componenti di quella commissione del collegio dei docenti di dottorato, che hanno fatto parte di alcuni autorevoli componenti della commissione presiduta da Mario Draghi che stese il testo unico della finanza e quello è uno di quei fenomeni da cui regole fissate per le società quotate si sono poi irradiate progressivamente anche alle società aperte e non quotate, con una sistema disciplinare che poi avrebbe trovato un lustro dopo nel testo unico, nel codice civile, nella riforma organica del diritto societario, alcune norme di carattere generale che non a caso anche sistematicamente interessanti sono state collocate immediatamente dopo le norme sulla costituzione della società per azioni, come a dire che a fianco della sedes materie tipica del atto costitutivo dello statuto che fissa le regole di funzionamento della società intervenendo nel, per così dire geneticamente, nel DNA delle società fissando regole che incidono sulla legge di funzionamento di quella società, sono le regole statutarie con un'apertura significativa anche nell'SPA e segnatamente nell'SPA chiuse operata la riforma del diritto societario, a fianco di quelle regole che per l'appunto intervengono sul DNA della società, ad esempio stabilendo se le azioni sono liberamente trasferibili o sono soggette a vincoli, anche qui sensibilmente accresciuti come spazio intervento dalla riforma, a fianco di quelle regole che per l'appunto sono propriamente legge di funzionamento della società e trovano la loro sedes materie nello statuto, si possono introdurre regole di natura parasociale e non a caso gli articoli 2341 bis e ter si collocano immediatamente prima dei conferimenti e immediatamente dopo le norme sulla costituzione dello statuto. Abbiamo un sistema, per così dire, a cerchi concentrici immediatamente prima, tra l'altro, della riforma del testo unico della finanza e si era verificata quella evoluzione giurisprudenziale che ha segnato Reviermont nel 1995 della Cassazione, quell'importante sentenza di cui fu il relatore marziale, che è tuttora un punto di riferimento e dalla quale è stato un punto di non ritorno, un po' come quella, mi piace ricordare, del 1998 sugli amministratori, del 99 sugli amministratori di fatto, si è tanto discusso il problema dell'applicazione delle norme sulla responsabilità di fatto, con oscillazioni che per lustri hanno connotato la nostra giurisprudenza, così anche sui patti parasociali, sulla loro validità segnatamente, vedremo, dei sindacati di voto, a lungo si era discusso, ma ancora prima della consacrazione normativa, operata dal testo unico della finanza e poi dal codice civile, la giurisprudenza era arrivata a un'affermazione di tendenziale legittimità che da quella sentenza non ha più avuto riscontri. L'ultimo precedente edito che ha segnato la nullità dei patti parasociali in punto di sindacato di voto a maggioranza è un precedente che come sappiamo non possiamo più citare come tale, perché un precedente, quella famigerata la Corte d'Appello di Roma del gennaio 1991 metta relatore, rispetto alla quale è passata in giudicato, ormai dopo tre gradi di giudizio, la condanna per corruzione del giudice estensore del Presidente della sezione. Quindi direi che dagli anni 90 in poi non abbiamo più una sentenza che ha sancito la nullità dei patti parasociali sindacati di voto a maggioranza. Ciò non toglie, quindi abbiamo un quadro normativo che detta alcune regole e detta alcune regole per alcuni patti parasociali e andremo ora a richiamarle velocemente. Dall'altra abbiamo invece un problema di identificazione di eventuali perduranti limiti di validità ai patti parasociali. Vi pongo alcuni dei problemi che si sono posti nella giurisprudenza, non più in apicibus, se sia legittimo impegnarsi a votare in un certo modo con sanzioni anche di carattere pecuniaro importanti, clausole penali, certamente riducibili l'equità, ma o clausole di riscatto a favore delle soci adempienti pro quota nei confronti dei soci inadempienti, con magari l'acquisizione a prezzo di libro, a prezzo vile, delle partecipazioni, tutti i meccanismi per rafforzare diciamo l'efficacia pur sempre obbligatori dei patti parasociali. Quel tema della vincolatività del patto, sempre nella dimensione parasociale con cui ci si impegna a votare come concordato, come deciso della maggioranza degli aderenti al patto, è un tema, ripeto, che non ha più avuto da quel punto di vista ricadute giurisprudenziali critiche, negative, si può dare per assodato oggi. Viceversa permangono in questa area dei patti parasociali dei perduranti dubbi sulla portata e sulla conformità a norme imperative, sia sul piano strutturale da un lato, ma soprattutto sul piano contenutistico. Provo ad avanzare alcune domande a questa platea così qualificata per la quale mi scuso fin d'ora se poi alcune riflessioni che farò ora sono inevitabilmente istituzionali per ricordare a noi stessi, diciamo, il quadro normativo in cui si collocano i problemi. Ma i problemi sono... è possibile impegnarsi con un patto parasociale ad approvare comunque il progetto di bilancio che sarà presentato dagli amministratori nel prossimo triennio quinquennio? È possibile impegnarsi con un patto parasociale a votare comunque contro qualsiasi proposta che venga avanzata dagli amministratori o dai soci che, come sapete, possono avanzarla, anche se non è prevista all'ordine del giorno in sede di assemblea di bilancio, in ordine alla promozione dell'azione di responsabilità contro gli organi sociali? E ancora, è legittimo il patto parasociale con il quale i componenti del collegio sindacale si impegnano alle dimissioni in caso di trasferimento della partecipazione di controllo? O in una società di partecipazione pubblica con cui i componenti del collegio sindacale si impegnano alle dimissioni in caso di rinnovo del consiglio comunale o regionale a seconda dell'ente partecipante? E ancora, è legittimo il patto parasociale a tempo indeterminato nel quale si preveda una penale in capo al socio recedente o un diritto di riscatto della sua partecipazione da parte degli altri soci nel caso di esercizio e recesso? O, variante, per il mio modo di vedere, non molto diversa, è possibile prevedere che in un patto, come molto più frequentemente avviene, a tempo determinato, in caso di mancato rinnovo del patto stesso o di disdetta, se prevista una clausola di rinnovo automatico, gli altri soci o l'altro socio aderente al patto abbia diritto di riscattare la partecipazione del socio che intenda non rinnovare il patto parasociale alla scadenza? E anche qui potremmo, con un climax ascendente di gravità, a partire da un riscatto a prezzo di mercato, come fosse il prezzo di determinazione della quota del socio receduto, un riscatto a valore di libro, un riscatto a valore vile. Allora, questi sono problemi che si sono posti nella giurisprudenza che tuttora richiedono una valutazione sulla quale vorrei alla fine di questa nostra conversazione, magari con l'ausilio anche, non solo dei maestri, insomma, del maestro che mi affianco e della platea così qualificata, provare a dare alcune chiavi di lettura e proposte di soluzione. Però tutto in un quadro in cui abbiamo però i dati normativi. E noi giuristi, come dire, fatti specie, disciplina, è un moto pendolare che ci fa sentire a casa, l'Ubicon system normativo è un po' una coperta di linus che vogliamo ogni volta tenerci sulla spalla, e quindi da lì partiamo. I patti parasociali sono oggetto di tre differenti discipline, e questo è un dato interessante anche sul piano sistematico, perché se c'è un tratto invece comune della riforma è che alcune delle regole delle quotate sono state talvolta stese a tutte le strade. Oltre al 2003, oltre al 2003, ecco, questa è una regola che nasce nelle quotate, o altre regole che pure abbiamo visto. la rilevanza degli assetti, dei sistemi di controllo interno e così via. Altre regole nascono per le quotate e vengono estese, questo è un corpus più significativo, a tutte le società ammette, ancorché non quotate. Inoltre a verso, qui abbiamo tre parti termine, abbiamo delle regole piccoli di ari, abbiamo nei centri di progetti lo schietto, che ha un'opera intensità, un nocciolo più duro nelle quotate, perché il limite è finale, meno dura, pur sempre, è coincidente, è un'opera di una quinta situazione, quindi è una quinta situazione, in tutte le società non quotate, siano esse aperte o chiuse. A fianco di questo nocciolo duro che è il denominatore comune a tutti i patti parasociali di società per azioni, aperte, quotate, aperte, non quotate, chiuse, abbiamo poi un secondo cerchio concentrico che attiene alla pubblicità e che ha una dimensione molto più pregnante nelle società quotate con obblighi pubblicitari che tra l'altro per noi studiosi sono una fonte di grande, così, un laboratorio di studio particolarmente interessante. Ricordo una delle ragioni per cui era difficile esaminare, c'era Gaetano Castellano che diceva sono come quelle strane creature che in natura si vedono solo in certe circostanze peculiari. Lo stesso patto, quello poi oggetto della famigerata sentenza della Corte Appello di Milano, quello relativo cioè alla Amef, l'Arnoldo Mondadori, editoria finanziaria, era un patto che comunque sottendeva una qualche incertezza sulla sua validità, almeno per la parte parasociale, se è vero come è vero che ne esisteva un'unica copia in originale presso quel notaio che poteva darle solo alle parti congiuntamente o al collegio arbitrale ove mai fosse insediato. Che poi dalla nullità di quel patto parasociale derivasse anche la nullità del contratto di compravendita che era la premessa per la gestione interinale parasociale e l'elemento di forzatura clamorosa che allora appunto poi è stato acclarato, diciamo, nelle ragioni che a noi erano ad esse sottese. Ma tornando a noi, dicevo, la grande differenza è che allora i patti parasociali emergevano quando appunto avevano un momento di, o perché erano già passati, allora si iniziava a poter esaminare ex post, postumi direi propriamente, o perché c'era una dimensione causidica, patologica. Oggi invece abbiamo per tutte le società quotate, chiunque acceda al sito Consob sotto assetti proprietari ha diritto di scaricare tutti i patti parasociali, siano essi patti di mera consultazione o avere propri patti di voto. Da questo punto di vista abbiamo ormai una casistica molto interessante che consente appunto di operare delle valutazioni, ad esempio sulle clausole di rinnovo che sono molto diffuse, le clausole di rinnovo taccide ad esempio. Questa pubblicità che prevede l'iscrizione fino anche nel registro delle imprese, tra l'altro dei patti parasociali, è temperata nelle società aperte non quotate, dove la pubblicità invece è relegata alla dimensione assembleare per l'appunto e sebbene noi sappiamo che almeno nell'assemblea di approvazione del bilancio rimane poi un allegato al verbale, il verbale di approvazione del bilancio è depositato insieme al bilancio e di qua la possibilità di accedere, ad esempio mi è capitato in recente di vedere il patto parasociale in Toscana, se abbiamo una banca quotata come Montepaschi, finché speriamo rimanga tale, e poi abbiamo invece ad esempio la Cassa di Sparmi San Mignato, che è una non quotata, ma il patto parasociale tra la Fondazione Carismi e Cattolica di Assicurazione, che è l'altro socio aderente al patto, è un patto che chiunque può consultare, vedere, scaricare da registro delle imprese con una visura. Rispetto a questo abbiamo poi invece un'assenza di pubblicità, rimane un patto interno e riservato nelle società aperte, le sta chiuse, le sue operazioni chiuse, questo è un po' il quadro. Partiamo dal cerchio concentrico iniziale per ricordare che la durata dei patti parasociali è la durata quinquennale al di fuori dell'ambito delle quotate, siano esse SPA chiuse o aperte, rimane fermo, quindi la durata scende a tre anni nelle società quotate, in base all'articolo 122. Il dato comune è dunque una naturale transitorietà. Il patto parasociale si contrappone alla dimensione statutaria per la sua imperativa caducità. Poi può essere caduco, naturalmente può essere rinnovato, ma il rinnovo dovrà essere sempre frutto di una rinnovata volontà. Non è detto che sia di una rinnovata negoziazione, purché i tempi di disdetta siano adeguatamente contenuti, io posso, e quindi fondamentalmente si ricolleghino al semestre che vedremo è il termine di efficacia del recesso dei patti a tempo indeterminato, quindi se non vadano oltre questo ambito temporale, nessun dubbio, a mio modo di vedere, può più porsi ormai a distanza di 16 anni, 17 anni dal testo unico della finanza, come pure autorevolmente inizialmente si era posto, sulla legittimità anche nelle quotate, ma a maggior ragione nelle non quotate, di clausole di rinnovo tacito automatico, purché naturalmente uno abbia una tempistica adeguatamente ravvicinata alla scadenza, non di due anni prima della scadenza, o di forse anche 18 mesi, ma adeguatamente vicino alla scadenza, entro la quale può disdettare ancora il patto, iniziando in quel semestre, in quel trimestre, la negoziazione sul suo eventuale rinnovo. Ancora più caduca ai transitori e precari è la dimensione del patto parasociale a tempo indeterminato. Questo è un patto dal quale il giorno dopo la sua stipulazione chiunque può recedere. E in questo caso è un patto che durerà sei mesi e un giorno, perché il termine per l'appunto di efficacia dilatata del recesso è certamente riducibile in via contrattuale, di autonomia contrattuale. Il termine massimo di durata è per l'appunto il preavviso dei 180 giorni. In questo caso appunto lo stipuliamo oggi, io l'ho disdetto domani, recedo domani, il patto avrà durato i 181 giorni. Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, oltre alla durata quinquennale e al recesso, se mai fosse a tempo indeterminato, e questo spiega perché sono molto molto più rari, ovviamente i patti a tempo indeterminato, sono patti flu, sono patti di una loro transitorità e caducità estrema, c'è per le, non tutte le sebbiamo, ma per quelle aperte e non quotate, l'obbligo di comunicazione alla società, la dichiarazione all'apertura di ogni assemblea del patto, la trascrizione della dichiarazione nel verbale dell'assemblea e con il deposito presso il registro delle imprese noi abbiamo almeno la certificazione dell'esistenza del patto per la sociale. È chiaro che in una società aperta sapere qual è l'assetto proprietario importante e non è importante come in una quotata. Evidentemente in una quotata sapere qual è l'assetto, qual è la contendibilità della società è un elemento che assume una rilevanza del tutto peculiare e che induce anche giuristi illustri, penso tutta la scuola che fa riferimento a Guido Rossi e con lui De Nozza e con lui Alberto Toffoletto, come dire, a porre tuttora, nonostante le norme 122 e 123, più direi degli ure condendo che degli ure condito, da un lato degli ure condito un'interpretazione più restrittiva e rigorosa nelle quotate dei limiti di validità e dall'altra addirittura una proposta di limitazione della validità dei patti nelle quotate. Qui, se uno legge la relazione che il Presidente della Commissione, Mario Draghi, fece al Parlamento proprio nella fine del 97, prima dell'emanazione del testo unico della finanza, il punto di equilibrio fu proprio quello. Legittimare il patto parasociale come strumento di definizione, di predefinizione degli assetti in una logica di continuità delle strategie industriali e proprietarie anche delle società quotate italiane, secondo una tradizione che è propria, diciamo, in misura più marcata che in altri ordinamenti della nostra tradizione del capitalismo, del capitalismo finanziario italiano, segnatamente, da un lato, con l'esigenza però di massima disclosure, di massima trasparenza sull'esistenza, il contenuto, il tenore di questi patti e di contemperamento con l'istanza di contendibilità che dice chiaramente Mario Draghi è prevalente rispetto a quella suvalente di contenimento, diciamo, di sistematizzazione, stabilizzazione degli assetti. E di qui, in termini di pubblicità, questa pubblicità aggravata che prevede che ogni qualvolta incida sull'esercizio del diritto di voto in una società quotata, il patto va immediatamente comunicato all'autorità di vigilanza, pubblicato per estratto sulla stampa quotidiana, depositato presso il registro delle imprese ovvero la società ha la sua sede legale e comunicato alla società quotata, per ultimo. E la norma si applica anche ai piatti, questo a ogni buon conto, non solo i sindacati di voto in senso stretto, ma anche i sindacati di consultazione, spesso poi la formulazione è un po' labile, sfuggente, la distinzione tra l'uno e gli altri, quando è vincolante, quando è mera consultazione e quando è vero e proprio sindacato vincolante, ma anche i patti semplicemente cosiddetti di blocco, che pongono limiti a trasferimento delle azioni o di strumenti finanziari, che attribuiscono diritti acquisto e sottoscrizione alle stesse, o che prevedono l'acquisto delle azioni e gli strumenti finanziari, di cui appunto le società quotate, che abbiano poi oggetto effetto quello di esercitare anche congiuntamente un'influenza dominante sulla società, o ancora a volte a favorire, questa è inserita successivamente, o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. I vi inclusi gli impegnano ad aderire a un'offerta e il riferimento all'offerta pubblica d'acquisto ci fa ricordare che è talmente prevalente qui l'esistanza di contendibilità che il legislatore ha sancito un principio che da noi in Toscana ha trovato una bella estremesecazione recente anche in un bel provvedimento del Tribunale di Firenze relativo all'OPA lanciata dal gruppo Corporazione America d'intesa con gli aeroporti di Firenze e con la regione toscana contro l'aeroporto di Pisa che è una deroga cospicua al principio del pacta sun servanda perché il patto parasociale pur durante il suo triennio di vigenza è un patto dal quale ogni aderente può liberarsi ogni qual volta venga lanciato un'offerta pubblica d'acquisto e questo provvedimento del Tribunale di Firenze il Tribunale delle Imprese di Firenze ora chiarisce qualunque sia il tipo di offerta pubblica d'acquisto quindi non solo l'obbligatoria totalitaria ma anche la preventiva sia essa volontaria totalitaria o meno tra l'altro nelle quotate presente l'assemblea l'obbligo di dichiarare in apertura di ogni assemblea esistenza i patti parasociali di cui la società si ha conoscenza questo lo prevede il regolamento emittenti e può essere utile per i patti stipulati a ridosso siccome il termine è di 5 giorni per comunicarli i patti i patti stipulati a ridosso dell'assemblea trovano così una loro emersione comunque in sede assembleare chiunque di voi abbia partecipato ad un'assemblea di quotata ricorderà che il primo elemento dove sostitano questi patti di cui si dà atto dopo aver dato atto della regolare costituzione e regolare convocazione dell'assemblea è proprio quello tra l'altro l'ommessa disclosure determina l'annullità del patto parasociale la sterilizzazione del diritto di voto inerenti alle azioni per cui non è stata effettuata aderenti al patto per cui non è stata effettuata la pubblicità e ove queste azioni abbiano avuto una rilevanza determinante per il conseguimento delle maggioranze l'annullabilità come per l'appunto ogni altra ipotesi di sospensione di vieto di voto ai sensi 2377 della relativa delibera vi sono poi addirittura delle sanzioni penale amministrative ora depenalizzate amministrative da un punto di vista se questo è il quadro della società per azioni che vede per le SPA non quotate solo il tema della durata e vedremo solo il tema della durata con riferimento ad alcuni patti parasociali non a tutti i patti parasociali c'è anche una delimitazione dell'ambito oggettivo dall'altra abbiamo queste sono diciamo nella quotata la perigina del nostro alveare societario le altre sono comunque figure importanti non sarà la balena bianca ma sono delfini importanti abbiamo poi il milione più di acciughe di SRL nel nostro mar nel mare nostrum societario e per queste è interessante osservare fin d'ora che il legislatore non ha non ha dettato alcuna disciplina il che non vuol dire che ci sia uno spazio vuoto di diritto e qui venendo in terra emiliana mi piace di chiamare le belle pagine l'introduzione al negozio giuridico di Francesco Galgano non esiste lo spazio vuoto di diritto quando c'è uno spazio vuoto si colma in via interpretativa perché non sono state dettate dalla relazione anche qui molto succinta sul punto della sottocommissione Angelici della commissione Avetti noi desumiamo che la volontà è stata quella di consentire un'autonomia statutaria così ampia nell'SRL da permettere l'inserimento all'interno dello statuto di quasi tutte le regole che in una società per azioni e fino a ieri anche in un'SRL avevano la loro sedes materie nel patto per la sociale questo tra l'altro consente non solo di dare efficacia reale a quelle patruzioni cioè di intervenire nel DNA ad esempio della trasferibilità di quelle quote dell'attribuzione di quei diritti a un certo socio ma consente anche di protrarre queste regole per una durata che non è soggetta a rinnovi indefinita e non soggetta a rinnovi quindi questo è certamente il vantaggio che l'SRL può realizzare e può realizzare in misura obiettivamente più marcata di quanto non avvenga nelle società per azioni tra l'altro con riferimento ai patti parasociali che tuttora sono diffusi nell'SRL peraltro i limiti imperativi è uno dei più delicati che è rappresentato dall'autonomia della funzione gestoria del principio per cui la gestione di un'impresa organizzata informazionaria di esclusiva aspettanza dell'organo amministrativo e non può considerarsi vincolante se non nelle materie di competenza assembleare qualsiasi deliberazione assembleare fin anche nell'ipotesi in cui lo statuto preveda l'intervento assembleare sulle questioni gestorie in termini di mera autorizzazione ecco questo principio che è un principio cardine di tutte le SPA che vale per tutte le SPA salvo quelle che facciano parte di gruppi per cui va coordinato con il potere di direzione e coordinamento della capogruppo e il dovere di tendenziale adeguamento degli organi amministrativi della capogruppo a queste direttive dicevo questo principio non ha nella cittadinanza nell'SRL dove viceversa se confrontiamo il 2479 con il 2380 bis e il 2364 numero 5 che sono le norme in tema di SPA che abbiamo ora ricordato vediamo che è possibile lasciare ai soci un intervento pressoché indefinito sulla gestione ad esempio rimettendo la competenza dei soci tutti gli atti di valore superiore a 5.000 euro a 10.000 euro sembra una cosa ridicola mai che sono stato presi di facoltà era i vecchi 10 milioni cioè 5.100 euro la soglia di competenza delle decisioni di valore economico di competenze prese per il resto bisogna passare dal consiglio di facoltà e questa è una clausola assurda irragionevole ma legittima in un'SRL e quindi a maggior ragione se questo tipo di intervento dei soci di incidenza dei soci sulla gestione è consentita anche al di fuori dei gruppi dicevo in un'SRL a livello statutario a maggior ragione i sindacati di gestione cioè quei sindacati che intervengono conformandola indirizzandola sull'amministrazione della società delle imprese organizzate in forma di SRL possono qui trovare una cittadinanza e una legittimazione molto più ampia dei sindacati di gestione nelle imprese organizzate informazionaria questo non vuol dire che tutto ciò che davvero tutto possa essere messo nello statuto e che non vi siano spazi come ci insegna l'esperienza concreta per patti parasociali nell'SRL anzi per alcuni versi la riforma ha ampliato almeno sul punto cruciale che il piedistallo l'a priori di qualsiasi patto parasociale cioè la limitazione al trasferimento delle partecipazioni vedremo che qualsiasi patto parasociale nell'SPA come nell'SRL da sempre proprio in relazione all'efficacia e veramente obbligatoria inter partes punto della patruzione parasociale al suo piedistallo in un blocco statutario che sia un vero e proprio divieto di alienazione o un gradimento in capo agli altri partecipanti o una alienazione condizionata alla preventiva sottoscrizione del patto parasociale da parte dell'acquirente e così via o una mera prelazione di carattere parasociale non c'è ripeto patto parasociale che non muova da questa premessa anche perché altrimenti quei vincoli non sarebbero opponibili all'acquirente delle partecipazioni originariamente sindacate oggetto del patto parasociale ecco rispetto a questo profilo che quindi è il ripeto l'a priori un punto tipicamente regolato da ogni patto parasociale ebbene da questo punto di vista il beh a livello statutario nell'SRL sembra potersi far tutto ma in realtà se la mettiamo in termini calcistici forse forse l'SRL che fino a ieri vinceva infinito a zero sul lock up cosiddetto statutario oggi perde 2 a 5 fino a ieri si riteneva legittimo il divieto di alienazione statutario nelle società di responsabilità limitata senza correttive fino a cioè il 2003 era l'opinione prevalente c'era chi come butta lo sosteneva il diritto di accesso che in parte è stato recepito ma sono stati pochi diciamo la tesi prevalente che fosse legittima il divieto to cure statutario cioè replicando nell'SRL la regola che è la regola 2252 che riguarda trasferimento inter vivos o mortis causa 2285 nelle società di persone nell'SPA si riteneva invece illegittima il low cap statutario qualsiasi clauso di intrasferibilità erano entro certi limiti consentiti le clausole di gradimento legittimate le clausole di prelazione ma il low cap il divieto statutario quindi il rapporto era fino a 2003 di infinito a zero infinito naturalmente era legato non erano ammesse da loro le società a tempo indeterminato era cioè la durata della società implicava la intrasferibilità della partecipazione al 2050 al 2030 noi sappiamo che il nuovo articolo 2469 invece nell'SRL equipare in buona sostanza l'SRL che preveda un divieto di trasferimento alla SRL a tempo indeterminato ricollegando cioè al divieto statutario di trasferimento il diritto di recesso in capo a tutti i soci dal più minoritario dei soci minoranza al socio di controllo semplicemente per quello dicevo 5 a 2 semplicemente richiedendo un preavviso che non può però superare il bienio mentre nell'SPA il nuovo 2355 bis consente il divieto statutario sia pur transitorio di lock up la nuova l'Italia adesso mi ha visto entrata il TIAD un anno dopo nell'ottobre del 2008 è stata costituita e per 60 mesi prevedeva un lock up statutario un'intrasferibilità delle partecipazioni che è scaduto appunto nell'ottobre 2013 senza nessun diritto di recesso in capo ai soci ovviamente in questo quadro naturalmente le patruzioni parasociali nell'SRL in punto di intrasferibilità delle partecipazioni hanno tuttora una una loro ampia diffusione e ancora non è detto che tutto quello che c'era nei patti parasociali possa davvero essere inserito nell'SRL all'interno dei patti parasociali certamente la norma su diritti particolari accordabili ai soci nell'interpretazione che si è venuta ormai diciamo affermando nell'interpretazione dominante anche delle cosiddette massime a me piace chiamarle orientamenti perché le massime per me le fanno i giudici diciamo gli orientamenti del notariato molto commendevoli molto dicevo in questi orientamenti si è appunto affermato principio per cui abbiano riguardo non solo l'amministrazione in sesso stretto i diritti amministrativi e gli utili ma abbiano una portata più ampia e quindi si possa attraverso i diritti particolari prevedere ad esempio appunto che un socio abbia diritto di disegnare anche se al 10% è capitale come diritto particolare due dei tre amministratori o essere di diritto amministratore con poteri di veto su certe scelte tutto questo è senz'altro mi chiedo però se si possa arrivare al punto spesso cruciale dei patti parasociali sia nella società partecipazione mista sia nella società in molte di un benchio diciamo ma non solo gli accordi di collaborazione che trovano quasi sempre poi anche tuttora nell'SRL e la loro forma elettiva è quello cioè relativo a chi sarà l'amministratore investito di funzioni delegate e l'ampiezza e i limiti della delega questo è il classico punto cruciale quando ci si accorda nel patto io avrò diritto a tre dei cinque amministratori io magari socio pubblico di controllo tra cui il presidente tu avrai diritto a due da cui sarà tratto l'amministratore delegato allora è possibile in un SRL arrivare a attribuire è un tema delicato su cui francamente non ho una risposta arrivare a attribuire come diritto particolare è quello non soltanto di disegnare un amministratore ma di essere amministratore delegato di disegnare gli amministratori tra i quali il CDA dovrà scegliere il delegato che se sarà uno sarà vorrà dire automaticamente disegnare il delegato e come si raccorda questa norma con le responsabilità civili talvolta anche penali che hanno rispetto all'operato dei delegati il consiglio il board il consiglio dei deleganti ecco tutto questo induce tuttora ha delle remore che forse potrebbero essere superate un'interpretazione più coraggiosa nell'SRL nell'SPA sarebbe inconcepibile una clausura salutare di questo tipo naturalmente nell'SPA siamo arrivati a sostenere noi come consiglio notario di Firenze come orientamento di diritto societario il consiglio notario di Firenze ripresa proprio quest'ultima settimana delle ultime massime orientamenti loro le chiamano proprio massime di Milano l'avrete lette la possibilità che una categoria di azioni se rappresenta la maggioranza dei diritti di voto oggi con il voto plurimo possono essere non la maggioranza del capitale o del capitale con diritto di voto dicevo possono esprimere un certo numero di amministratori anche la maggioranza degli amministratori e un'altra categoria esprimerà gli altri amministratori questa diciamo un'evoluzione la massima a cui possiamo arrivare in sede statutaria in una SPA in un'SRL viceversa possiamo andare ben oltre ripeto arrivare a quelle clausole che abbiamo ricordato però arrivare a disegnare l'amministratori delegato questo può essere un profilo invece di più dubbia legittimità a livello statutario di qui allora la perdurante rilevanza ai patti parasociali e di qui anche il problema se in assenza di una norma corrispondente al 2341 bis vi sia uno dei limiti durata ai patti parasociali nell'SRL limiti durata che non possono non esservi perché noi abbiamo una norma generale del nostro diritto sul divieto di allenazione che impone che il divieto convenzionale di allenazione risponda a un interesse che qui sarà sicuramente meritevole di tutela ma sia contenuto entro convenienti limiti di tempo ce lo dice l'articolo 1379 del codice civile la cosa particolare anzi sul piano sistematico che mi piace segnalare è come che per quel particolare bene che sono le azioni o addirittura le azioni di società quotata sia stato il legislatore che ha voluto predeterminare i limiti massimi 5 e 3 anni della clausola generale del 1379 questo ha fatto il legislatore ma la clausola generale permane e dal 2341 bis abbiamo senz'altro la conferma che fino a 5 anni si possa arrivare anche nell'SRL a forziori oltre rimane il problema generale di interpretazione del 1379 e obiettivamente non saprei fino a che punto ci si possa spingere francamente certamente non andrei mai oltre 10 anni se ci sia un arco temporale intermedio tra i 5 e i 10 questo è un altro paio di maniche naturalmente tutto questo in una logica che prevede come nel divieto delle nazioni come nel divieto sono generali altri limiti per cui il legislatore fissa dei termini il divieto convenzionale di concorrenza fissa 5 anni e anche lì è rinnovabile ma anche lì come il divieto nei patti parasociali deve essere liberamente rinnovabile perché ovviamente la tendenza un po' di tutti coloro che vogliono sclerotizzare gli assetti dei patti parasociali e quella di indurre il rinnovo vi sono anche clausole che è capitato di esaminare che prevedevano che il patto si rinnova ma di altri 3 anni o 5 anni se era non quotata salvo che la maggioranza delle azioni sindacate abbia disdettato 6 mesi prima quindi un rinnovo a maggioranza che è incompatibile con il termine triennale a maggior ragione nelle quotate lì non avrei dubbi ma anche quinquennale delle non quotate e analogo discorso in forza del 1379 dovrebbe in modo di vedere riproporsi per le partecipazioni di società a responsabilità limitata e ancora probabilmente agli stessi termini bisognerebbe arrivare a una soluzione almeno anche lì con un climax ascendente tra SRL SPA chiusa SPA aperte e quotate per quanto riguarda le pattuizioni come quella vicenda di quella la nona banca italiana di cui ci occupavamo in quel patto parasociale in cui all'unanimità con quei due illustri maestri pervenimmo alla conclusione che era nullo la clausola del patto parasociale di una banca quotata che prevedeva che in caso di mancato rinnovo questo è interessante c'era una banca che aveva il 19,5% di questa banca quotata allora ripeto la nona banca italiana e un ente fondazionale una fondazione bancaria che aveva il 35% si prevedeva che in caso di mancato rinnovo da parte della fondazione la banca avesse un diritto di riscatto di esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'originario patto sul 10% quindi un terzo aveva diciamo che aveva circa il 32% per la verità su un terzo della partecipazione detenuta in quel momento dalla fondazione di tal che la fondazione sarebbe scesa dal 32,5% a poco meno del 21% e la banca sarebbe salita in questa banca che a quel punto diventava sua controllata dal 19,5% al 29,9% non a caso 29,9% non a caso 29,9% abbiamo una studiosi di OPA quindi 29,9% ebbene quel patto quella clausola del patto venne ritenuta nulla dal collegio di cui è bello onore di far parte e addirittura presiede fatto questo inquadramento volevo anche segnalarvi che per le SRL così come anche per le SPA chiuse quelli cerchi concentrici come dire si intersecano radialmente o si irradiano una sorta di radioattività qualora siamo di fronte a società che controllano società soggette alla disciplina di base cosa intendo dire noi la SPA Telco che è una società chiusa costituita da generali intesa unicredit se non sbaglio e dall'altro telefonica che riscattò la quota di controllo da Tronchetti della Pirelli di Telecom Italia proprio perché è un SPA chiusissima ma che controllava una società quotata il patto parasociale di Telco è un patto parasociale che tutti abbiamo potuto leggere esaminare considerare essendo soggetto alla stessa disciplina dei patti che direttamente riguardano la società quotate il patto parasociale di edizione holding piuttosto che di Atlante adesso non Atlante quotate scusate diciamo sintonia per dire che è un SRL addirittura che è un patto parasociale è un patto che essendo una società che controlla Benettona Autogrill e così via è una società che è un patto che tutti possiamo esaminare pur riguardando un SRL quindi in realtà così come sarà soggetto alla disciplina di pubblicità delle aperte non quotate il patto come quello che ho citato all'inizio di società che controllino SPA aperte anche non quotate che dovrà essere quindi oggetto della medesima disciplina pubblicità sulla nozione dei patti parasociali ovviamente abbiamo una tipologia ancora 5 minuti 10 minuti una tipologia quanto mai vasta perché il legislatore non detta la fattispecie il legislatore enuclea alcune delle situazioni che sono riconducibili e soggiacciono a questa disciplina in punto di validità e in punto di pubblicità ci sono patti estranei agli assetti proprietari in termini di esercizio di diritti corporativi il voto in primis patti inerenti peraltro verso non inerenti al trasferimento le partecipazioni che come tali possono avere una durata anche superiore a me è capitato in recente in un accordo di risanamento di prevedere che con una proiezione decennale per tutti i ripianamenti di perdite che saranno necessari fino a 10 volte il conferimento iniziale operato dal soggetto che interveniva nel risanamento quindi con questo cap però per 10 anni cioè fino alla conclusione diciamo del piano concordatario che si proiettava appunto su 9 anni dell'accordo di risanamento c'è un patto per la sociale un classico contratto a favore di terzo che la società per l'appunto la società che potrà far valere tra l'altro nei confronti colui che ha sottoscritto l'impegno nel patto per la sociale cioè la società non era non aveva formalmente sottoscritto il patto per la sociale ma secondo le regole generali del contratto a favore di terzo potrà agire anche in giudizio come è avvenuto in un precedente che vi segnalo perché poco dopo aver stipulato quel patto è uscita una bella sentenza della Cassazione che è il più recente precedente edito in termini di patti per la sociale tra l'altro la Lordana Nazziccone è relatrice e 7 maggio 2014 9.846 che ha dichiarato l'ammessibilità e licità di un patto per la sociale in funzione di risanamento aziendale a favore della società risananda terza beneficiare in senso proprio con i corollari per l'appunto anche della legittimazione della società stessa a ottenere dal parasocio gli impegni che aveva assunto a favore della società nei confronti degli altri soci quello è un patto che ha una sua proiezione che non riguarda l'esercizio dei diritti di voto non riguarda il trasferimento delle partecipazioni ma per l'appunto implica un ripianamento di pe un obbligo a favore della società che non rientra in quell'ambito né era idoneo esercitare un'influenza dominante adesso aveva già acquisito una partecipazione di controllo il soggetto da questo punto di vista mi piace anche segnalare come la dimensione tuttora in modo più evidente nell'SPA in misura più confinata angusta nell'SRL perché è detipizzata il patto parasociale si ponga sul piano che normalmente è precluso agli accordi alle clausole tipicamente statutarie o dell'atto sostituito di SRL cioè possa interferire sulla regole tipiche di quella forma societaria a cui si riferisce il patto parasociale poniamo un esempio è chiaro che non potremmo mai mettere uno statuto di un SRL o di un SPA che i soci rispondono fino a 5 volte o 10 volte quello che hanno conferito essendo il principio di limitazione della responsabilità un principio tipico della società stessa ma possiamo senz'altro prevedere a livello parasociale l'impegno a ricapitalizzare o a effettuare versamenti a favore della società o effettuare anche nuovi conferimenti mentre invece noi sappiamo la Cassazione almeno in un paio di occasioni ha detto che l'opzione obbligata cioè la causa tuttale che stabilisce che il soggetto che non sottoscrive l'aumento di capitale potrà essere escluso dalla società è una clausola nulla ovviamente uno può essere escluso se vuole sottoscrivere sottoscrive e poi è inadempiente allora a quel punto può essere escluso e in un SPA comunque può essere escluso con riferimento alla quota non liberata non alle altre azioni probabilmente anche nell'SRL bisogna arrivare a questa conclusione quindi possiamo intervenire invece perché? perché la clausola tuttale interviene nel DNA interviene sulla regola di funzionamento oggettive della società nel momento in cui interviene sulle azioni rende le azioni non trasferibili se non attraverso il gradimento col correttivo se non attraverso la prelazione mentre invece a livello statutario noi dettiamo regole che presuppongono le regole di funzionamento statutari o legali se lo statuto non la dice al riguardo e sulla premessa che quelle azioni siano trasferibili implica impegni a non trasferirle se non a certe condizioni ciò non toglie che non sia infrequente nella prassi e me lo potrete confermare almeno nella prassi che dal mio osservatorio ho avuto modo di esaminare che segnatamente patti prelazione clausole prelazione siano riprodotte telquel nello statuto e quando abbiamo i 3-4 soci che danno vita alla società in quell'operazione ad esempio abbiamo capitato una recente per la gestione di alcuni aspetti del intervento del porto di Livorno nel patto parasociale cioè la stessa prelazione che abbiamo a livello statutario è replicata a livello parasociale ora normalmente questa è un'istanza dei soci di minoranza ed è un'istanza legata al fatto che come dire come vi troverete in uno slide cuius regio eius et religio cioè dove collocata dove è collocata la clausola e qui manifesto fin d'ora le mie perplessità rispetto a un'operazione pur autorevolissima brillantissima che assegna valenza parasociale intrinseca a clausole contenute nello statuto di tal che comunque permarrebbero tra i soci con un'altra attività a livello parasociale ancorché cancellate obliterate è una tesi che come sappiamo Carlo Angelici da per suo ha prospettato e altri hanno seguito ecco quello in modo di vedere i principi di certezza del diritto societario dovrebbero indurre appunto a seguire che se uno ha scelto di mettere la clausola nello statuto varrà con l'efficacia reale che le propria e però anche con le regole sulla modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo di qui l'istanza del socio di minoranza di replicare la medesima clausola e il medesimo diritto a livello parasociale perché nella dimensione parasociale viceversa salvo che sia diversamente previsto con clausole che raramente mi è capitato di vedere nei patti parasociali vice il principio generale dell'efficacia a forza di legge tra le parti il contratto no? il 1372 quindi abbiamo regole generali del contratto del libro quarto e quindi non potrebbe essere cambiata una virgola di quel patto se non sono d'accordo tutti gli originari paciscenti tuttavia vi devo segnalare che se questo è vero qui è un po' una path dependence che rimane cioè sono quegli idola teatri formatesi prima della riforma anche nell'SRL che rimangono ancora oggi e che possono creare dei problemi perché poi magari il patto parasociale è la clausola arbitrale lo statuto invece vai davanti al tribunale delle imprese perché magari non hai messo la clausola arbitrale anche lì o sono diversi soggetti che indicano chi sarà l'arbitro unico al collegio arbitrale cioè si creano noi sempre diciamo chi come me è più di recente negli ultimissimi lustri insomma si è avvicinato alla professione venendo da una dimensione di studioso per così dire puro ha iniziato ad apprezzare come la dimensione causidica sia la dimensione poi che offre un osservatorio per ridefinire in funzione preventiva delle complicazioni causidiche giudiziali l'assetto contrattuale originario e allora con questa pur modesta qui abbiamo avvocati di ben altre esperienze di fronte a me a mio fianco personale esperienze dicevo in realtà si creano situazioni che sono oggettivamente come si dice a Firenze degli arrosti insomma mica male e che non sempre sono funzionali alla tutela dello stesso socio di minoranza molto meglio se io assisto a un socio di minoranza che ha il 20% il capitale o il 25% il capitale prevedere che quelle clausole statutarie possano essere modificate nell'SRL posso dire all'unanimità e nessuno mi dice nulla in un SPA con un quoziente che rappresenti almeno l'80% del capitale allora a quel punto conservo la clausola nella sua dimensione propria di efficacia reale di inefficacia dunque dell'atto di trasferimento opposto in essere violando quelle clausole magari con un diritto di riscatto e così via adesso questo è un po' diciamo la riflessione che sottopongo alla vostra attenzione in alcuni casi può essere utile conservare ovviamente la dimensione parasociale ma non come mirror o quando non si riesca a ottenere quella clausola a livello statutario sull'oggetto dei patti ovviamente sì vado a chiudere senz'altro sì sì un'ultimissima riflessione lascio naturalmente il testo che per è così è proprio perché una delle caratteristiche dei patti per associare è la loro efficacia obbligatoria ed è proprio dalla loro efficacia puramente obbligatoria che possiamo postulare un margine di validità più ampio rispetto alle clausole statutarie qui in manifesto è chiaro che la tendenza di tutti è quella di rafforzare il più possibile la vincolatività con clausole penali con meccanismi che ad esempio sul voto attribuiscano a un mandatario predefinito addirittura intestino fiduciariamente le partecipazioni a una società fiduciaria che voterà secondo il mandato ricevuto dal soggetto individuato che avrà recepito la volontà della maggioranza dei soci sindacati tutto un modo per impedire sostanzialmente l'inadempimento del patto perché io anziché andare a votare così come mi sono impegnato a fare nel patto parasociale non andrò nemmeno a votare perché ho già dato mandato sarà la società fiduciaria che voterà secondo quanto è espresso della maggioranza delle azioni sindacate e fin qui direi che non viene nessun problema perché sarebbe assurdo come ha scritto tra l'altro Renzo Costi ma c'è un altro modenese illustre che la validità o meno del patto derivasse dalla possibilità o meno di inadempierlo dalla maggior o minore possibilità di inadempierlo dalla maggior facilità di inadempimento da qui però ad arrivare ad affermare delle forme di tutela reale come in questo precedente abbiamo modo di vedere e c'è anche un arbitrato in cui mi è capitato lo dico anche adesso qui con il risentimento di chi l'aveva persa lì nel contesto in cui si è affermata la validità dell'ammissibilità di un provvedimento d'urgenza che ordina a chi ha sottoscritto l'accordo di votare secondo quanto stabilito nel patto parasociale questo precedente che per fortuna non era l'avis è come dire in contrasto se nemo ad factum a maggiore nemo ad pactum parasociale precise cogipotest perché evidentemente il patto parasociale o l'ho già strutturato in modo tale da rendere più difficile ma allora a quel punto potrò immaginare invece delle provvedimenti d'urgenza di svincolo quando ad esempio non sia stato o perché c'è piscola nullità del patto cosa che può essere ad esempio prevediamo in generale tutte le deliberazioni e io devo poter invece ad esempio poter recedere è corretto prevedere di fronte alla clausola che stabilisce la nullità di ogni patto limitativo del diritto di recesso che tuttora troviamo nel 2437 nel 2473 è corretto estendere i sindacati voto a maggioranza o meccanismi che non mi permettano di votare contro anche a deliberazioni per le quali io formerei il diritto di recesso oppure a fatti specie nelle quali è evidente plateale il conflitto di interesse di alcuni soci senza in presenza in un contesto nel quale il mio voto se contrario sarebbe determinante per non far passare la deliberazione o ancora in maniera più estrema e più discolastica quando si è stato mal calcolato dal presidente del sindacato del patto di sindacato perché magari il quoziente è quindi la corretta indicazione alla fiduciaria su come votare lì posso fare dei provvedimenti d'urgenza per non far votare la fiduciaria non far votare il mandatario ma dei provvedimenti d'urgenza per costringere a formare poi quella a mio modo di vedere si collocano un po' come anche altri precedenti qui ci andiamo oltre che permettono il provvedimento giudiziale che surroga la delibera negativa ecco questo è un po' le governement des juges no? è anche perché mi chiedo come possa l'ordinamento consentire una tutela anticipatoria di un obbligo che se violato non darebbe luogo a alcun rimedio invalidatorio è proprio una contraddizione sistematica posto che se io andassi o se il presidente del sindacato disse un'indicazione diversa o io andassi a votare in maniera diversa la delibera sarebbe da quanto mi ero impegnato a fare un patto per la sociale nessuno ha mai contestato la piena validità ed efficacia della delibera da me assunta violando il patto per la sociale semmai se non ho dato pubblicità al patto e poi ho votato sarà nulla la delibera perché era sospeso il diritto di voto ma se viceversa io ho dato pubblicità al patto e ho poi violato il patto barra sociale avrò puramente rimedi risarcitori attivabili dagli altri paciscenti dagli altri sottoscrittori del patto allora come è possibile in un contesto nel quale non è ammissibile avalle alcun rimedio invalidatorio consentiremo la tutela anticipatoria e qui siccome io sono approdato a Firenze dove sul punto il maestro come Proto Pisani ha scritto pagine ineguagliate con la citazione di questo maestro mi piace concludere questa nostra conversazione grazie ringrazio il professor Apriani per questa relazione particolarmente densa come vi siete benissimo accorti mi è sembrata particolarmente interessante quell'ampio spazio che è dedicato ai patti per sociali nella società responsabilità limitata che è ancora in buona parte inesplorato qui rimarrebbe un mio dubbio di fondo a cui voglio solamente accennare ma non è il caso di parlare cioè la distinzione tra sociale e parasociale se basta l'inserzione di un patto che per sé serve parasociale nello statuto per trasformarlo in regola statutaria no? beh no no c'è un problema in tempo se vuoi prendere il tema del senso se no potete anche chi non è stasera non è lo dico il resto non c'è tanto del mio la distinzione tra sociale grazie 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 è un'integrazione molto acuta direi sì sì senz'altro lo segnaleremo ma i civilisti da un lato noi siamo dei praticoni quindi questi loro diritto civile e il patto commerciale e quindi e dall'altro quindi loro snobbano forse un po' per quanto appunto fiori di civilisti si siano talvolta incrociati sul tema dei patri sociali però mi sembra effettivamente sì ma è una nullità peculiare questa perché è un modo per farla consentire a tutti di eccepirla al di fuori dei paciscenti e per sanzionare poi il diritto di voto come suscettibile di manifestazione e determinare l'annullabilità poi della deliberazione naturalmente bene direi che con questo ulteriore dubbio che viene prospettato direi che possiamo dare la parola alla professoressa Pedersini che tratterà viceversa di un argomento apparentemente più certamente più ridotto apparentemente marginale ma che in realtà è come che ha molto trova molto spazio nella pratica no? I patti di Covendi grazie professore sì il tema è sicuramente più ridotto però mi pare che si inserisca bene nel quadro nella cornice così straordinariamente disegnata da Niccolò Abriani perché il tema delle clausole di covendita tocca l'ambito diciamo della natura della struttura delle funzioni dei patti parasociali e tocca anche il tema della inseribilità all'interno dello statuto dell'esrl in forma di diritto particolare perché chiaramente questa è la cosa più interessante da domandarsi relativamente all'esrl e con un passaggio proprio sulla distinzione fra sociale e parasociale che qua trova mi pare un terreno di assoluto interesse allora le clausole di covendita clausole di covendita involgono una forma di negoziazione congiunta di partecipazioni sociali tipicamente e tradizionalmente le clausole di covendita si trovano inserite all'interno di patti parasociali stipulati tra soci di società per azioni con pagine sociale ristretta quindi società per azioni chiuse ma credo che sia opportuno tracciare la pur succinta relazione sul crinale diciamo tra sociale e parasociale per capire la dimensione sociale e la dimensione parasociale di queste clausole la loro più corretta negoziazione il loro più corretto inserimento all'interno dell'uno o viceversa dell'altro documento sociale allora in via di primissima approssimazione le clausole di covendita attengono al momento della cessione e attengono al momento della cessione in un modo del tutto peculiare nel senso che tendono a legare tra di loro le sorti dei soci di minoranza e dei soci di maggioranza secondo due modalità diametralmente opposte quella delle clausole cosiddette di accodamento o tag along o piggyback e quella delle clausole invece di trascinamento o covendita in senso proprio cioè le clausole di trascinamento invece quindi si tratta di clausole che nascono nell'esperienza giuridica angloamericana e hanno la funzione di favorire il mercato del controllo il ricambio del controllo all'interno di società chiuse hanno l'obiettivo di favorire disinvestimenti efficienti in società chiuse che per definizione non hanno un mercato non hanno un mercato liquido delle partecipazioni proprio legando tra di loro le sorti della partecipazione di maggioranza e della partecipazione di minoranza ciò detto ripeto in primissima approssimazione occorre distinguere occorre tracciare una suma di visio fra da un canto le clausole di accodamento o di tag along e le clausole di trascinamento o clausole di drag along allora nel primo caso cioè nel caso delle clausole di accodamento parliamo di un diritto di covendita nel senso che la struttura è così è così fatta nel momento in cui il socio tendenzialmente il socio di maggioranza si trova a cedere la propria partecipazione il proprio pacchetto azionario per ora riferiamoci convenzionalmente alle SPA avrà il dovere di procurare l'acquisto anche del pacchetto o dei pacchetti dei soci di minoranza alle stesse condizioni contrattuali negoziate con il terzo acquirente in questo modo come dire attribuisce al socio o ai soci di minoranza un diritto di vendere con lui o con lei e quindi un diritto di accodamento una facoltà una opportunità in buona sostanza il socio di maggioranza ha un onere procedurale il socio di minoranza si vede beneficiato di una facoltà il terzo acquirente può trovare un vantaggio nell'acquisizione della totalità del capitale sociale o di un pacchetto di assoluta maggioranza del capitale sul versante opposto si trovano invece le clausole di trascinamento o drag along distinguibili eventualmente da quelle di bring along a seconda delle impostazioni una distinzione che si trova abbastanza chiaramente espressa negli ordinamenti di derivazione un po' meno chiara forse nella costruzione dei patti e delle clausole statutarie domestiche dicevo nella clausola di drag along o di trascinamento c'è un vero e proprio obbligo di covendita quindi la struttura che apparentemente è la medesima vede però ribaltate le posizioni di obbligo e di diritto nel senso che nel momento in cui il socio di maggioranza trova un acquirente disposto ad acquistare il pacchetto azionario di cui è titolare avrà il diritto di trascinare con sé il socio di minoranza e quindi il socio di minoranza specularmente avrà il dovere di vendere anche la propria partecipazione alle stesse condizioni contrattuali convenute con il terzo acquirente qua dicevo occorrerebbe in realtà fare qualche ulteriore distinzione perché tecnicamente se la clausola di drag along prevede la facoltà quindi il diritto del socio di maggioranza di trascinare con sé il socio di minoranza con la clausola di bring along invece c'è un dovere di vendere anche il pacchetto o i pacchetti dei soci di minoranza e qua in realtà la vera differenza sta soprattutto tra il caso in cui in relazione alla natura civilistica che si possa riconoscere allo strumento utilizzato per costruire il patto parasociale per scrivere il patto parasociale dicevo la differenza vera secondo me è tra i casi in cui i due pacchetti o i tanti pacchetti diciamo il pacchetto di maggioranza e quello di minoranza vengano trasferiti uno actu con un unico negozio oppure ci sia un obbligo da parte del socio o dei soci di minoranza di prestare il consenso alla vendita anche dei propri o dei propri pacchetti questa è la vera differenza non tanto secondo me la dimensione di facoltà o di dovere in capo al socio di maggioranza allora è già evidente a livello descrittivo che gli interessi coinvolti sono molteplici e sono eterogenei ma sono interessi che si imputano in capo a tutti i soggetti della operazione quindi sono interessi trilateri perché da un canto il socio di maggioranza avrà un interesse dato dal fatto che verosimilmente il terzo acquirente sarà molto più interessato ad acquisire la totalità del capitale sociale o comunque a escludere minoranze riottose potenzialmente costruzionistiche o che comunque con le quali hanno alcun interesse ad avviare trattative quindi diciamo l'opportunità di vendere tutta la società dal punto di vista del socio di minoranza c'è la possibilità di profittare di un mercato che altrimenti non troverebbe rispetto a partecipazioni magari infinitesime e di beneficiare di condizioni soprattutto economiche che non sarebbe assolutamente in grado di trovare da solo dal momento che è titolare di partecipazioni appunto di carattere assolutamente modesto quindi il fatto di essere trascinato o di potersi accodare significa tutto sommato beneficiare di una parziale ricaduta del premio di controllo tutto questo al di fuori evidentemente della dimensione dell'OPA ma con strumenti e strutture che non sono così differenti io mi ero anche occupata di una ipotetica OPA imposta per statuto tutto sommato qua torniamo il terzo acquirente ancora come risulta evidente può avere assolutamente l'interesse a comprarsi tutta la società e quindi a non trovare minoranze che non gradisce a non trovare soci con i quali non è interessato ad avviare trattative quindi il terzo acquirente sarà come dire troverà più appetibile la possibilità di acquisire l'intera società si può anche ipotizzare una casistica allora da un punto di vista dell'origine della derivazione le operazioni in cui tradizionalmente le clausole di covendita vengono patuite sono quelle delle joint venture in cui ci sono un socio finanziatore e un socio imprenditore quindi un venture capitalist e un partner industriale allora il finanziatore che mette le risorse economiche a disposizione o dell'avvio di un'attività o del risanamento della ristrutturazione di un'impresa in crisi poi è interessato chiaramente a una dismissione economicamente vantaggiosa a una dismissione speculativa quindi nel momento in cui trova un nuovo partner industriale che vuole sostituire quello attuale è chiaramente interessato a uscirsele insieme col partner industriale quindi a seconda diciamo della quota azionaria posseduta nella posizione o dell'accodante o del trascinato quindi a seconda delle situazioni ma chiaramente si può immaginare anche al socio quasi totalitario che abbia interesse a fare uscire anche il socio che abbia un possesso azionario assolutamente risibile d'altro canto sono ancora molte le società che pur di non incorrere nelle minimali sanzioni della unipersonale vedono queste partecipazioni assolutamente risibili ma anche nei passaggi generazionali in cui se solamente uno dei figli vuole continuare l'attività imprenditoriale gli altri rimangono comunque titolari di partecipazioni più modeste beh quando se ne va il figlio o la figlia come dire che continua l'attività si trascina dietro anche gli altri in questo modo facendo beneficiare anche costoro dei vantaggi in termini economici oppure non lasciando l'imbalia di nuovi soci che potrebbero fare della società potrebbero spolpare la società i danni quindi in realtà le situazioni sono molteplici ma anche le cordate cioè i soci che comunque in società per azioni chiuse hanno interesse una sorta di simul stabund simul cadent cioè hanno interesse a rimanere insieme a gestire la società di tal che quando uno esce possono avere l'interesse a uscire insieme con il socio che cede bene chiaramente la descrizione sommaria conduce alla individuazione delle posizioni reciproche delle parti sul piano obbligatorio e questo mette capo come accennavo al problema della ricostruzione in termini civilistici ora su questo i civilisti per tornare peraltro al richiamo del professor guidotti i civilisti si sono interrogati moltissimo sulla natura sulla ricostruzione sulla qualificazione degli strumenti utilizzati a me pare da aspirante gius commercialista che in realtà non sia tanto utile a fini classificatori capire che cosa c'è cioè come sono scritti è più che altro utile capire in che modo possono essere scritti cioè sfruttare gli strumenti civilistici per dare ai patti parasociali quindi alle clausole di covendita inseriti in patti parasociali la struttura più adatta alle esigenze dei soci che li convengono quindi semplicemente molto riassuntivamente diciamo che tre sono le ricostruzioni che sono state date della clausola di Tagalong quindi quella di accodamento la facoltà data al socio di minoranza mandato senza rappresentanza cioè il socio di minoranza attribuirebbe al socio di maggioranza un mandato a vendere anche le proprie azioni preliminare di compravendita condizionato il socio di maggioranza stipula un preliminare di compravendita delle azioni del socio di minoranza condizionato al fatto di trovare un'offerta d'acquisto da parte di un terzo e la ricostruzione più accreditata che è quella della promessa del fatto del terzo è quella più semplice il socio di maggioranza promette che troverà un terzo acquirente disponibile ad acquistare alle stesse condizioni anche le azioni anche le partecipazioni dei soci di minoranza naturalmente il meccanismo è quello del 1381 ed evidentemente il rimedio non può che essere sul piano obbligatorio di risarcimento del danno per quanto riguarda invece il drag along e quindi il trascinamento l'obbligo di covendita qua sono due le ricostruzioni l'una accettata anche da un interessantissimo lodo con arbitro unico il professor Mazzoni del 2008 in cui ci sono tra l'altro moltissimi profili interessanti anche a livello di interpretazione degli statuti in cui si legge nella clausola di trascinamento vera e propria un mandato irrevocabile a vendere in rem propria con o senza rappresentanza se c'è rappresentanza secondo me è meglio un mandato a vendere in rem propria dunque irrevocabile perché evidentemente anche nell'interesse del mandatario già con rappresentanza in maniera tale che poi l'effetto si produce automaticamente uno acto come dicevo prima con una vendita congiunta di tutto il pacchetto o di tutti i pacchetti tutti i soci legati dalla clausola di covendita al terzo acquirente l'altra ricostruzione accettata invece dal tribunale di Milano in un'altrettanto importante sentenza sempre del 2008 riconosce un patto di opzione un patto di opzione a favore di terzo un patto di opzione in cui nella veste di promittente è evidentemente il socio di minoranza nella veste di stipulante il socio di maggioranza l'oggetto dell'opzione sarebbe la partecipazione del socio di minoranza la condizione sospensiva è sempre quella cioè che il socio di maggioranza trovi un terzo acquirente disposto ad acquistare la partecipazione di maggioranza è chiaro che io utilizzo inevitabilmente le due espressioni socio di maggioranza socio di minoranza in maniera convenzionale e francamente anche un po' rozza però bisogna insomma credo che non non si possa fare diversamente in di là dal fatto che appunto il concetto di maggioranza e di minoranza poi rischia di essere estremamente sfumato e molto più sfilacciato di così dicevo di là dalla ricostruzione secondo me è importante maneggiare gli strumenti civilistici per scrivere la clausa nel modo che si ritiene più opportuno quindi più efficaci o meno efficaci a seconda del soggetto nel cui interesse la clausola deve essere disposta facendo la consulente c'è una questione fondamentale secondo me ed è ma le clausole di covendita tanto l'una quanto l'altra sono limiti alla circolazione delle partecipazioni sono limiti alla circolazione delle azioni ora la dottrina forse maggioritaria include mi pare in maniera abbastanza apodittica le clausole di covendita nell'alveo dei vincoli alla circolazione delle azioni lo stesso fanno gli orientamenti notarili milanesi romani del triveneto la giurisprudenza se non ho omesso di leggere qualche sentenza si è occupata sempre di clausole e se ne è occupata postulando che queste clausole fossero limitative della circolazione ora secondo me non sono affatto limitazione alla circolazione delle partecipazioni o meglio o meglio in linea di principio a mio avviso non lo sono e non lo sono per una serie di ragioni anzitutto per le loro origini ripeto le loro origini sono quelle di exit rights cioè sono strumenti tesi a realizzare una dismissione efficiente di partecipazioni da società chiuse in cui non c'è un mercato sono strumenti che tendono a favorire e incentivare il mercato del controllo e il ricambio del controllo delle società operano nel momento della dismissione delle partecipazioni operano nel momento del ricambio addirittura del ricambio completo perché nel momento in cui c'è un accodamento o un trascinamento che coinvolge tutti i soci c'è un ricambio assoluto quindi a mio avviso in linea di principio non sono assimilabili affatto ai sindacati di blocco e non rappresentano limitazione e la circolazione delle azioni certo anche qua però bisogna interrogarsi rispetto al modo in cui sono scritte e rispetto alla diciamo agli elementi accessori rispetto a questa parte centrale se vendo avrà il diritto di vendere con me se vendo vendi per forza con me che sono i due elementi cruciali allora consideriamo sempre separatamente tag e drag cioè diritto di covendita obbligo di covendita allora nel caso del diritto di covendita socio di minoranza non è obbligato ma non l'è neanche socio di maggioranza che semmai vede semplicemente un onere procedimentale aggiuntivo un aggradio procedurale che è quello relativo al fatto di trovare un terzo che voglia acquistare anche la partecipazione di minoranza ma che per converso poi gli consente o le consente di trovare probabilmente un terzo più interessante che può pagare di più perché si compra tutto quindi già qua c'è un bilanciamento di interessi allora forse le clausole di covendita nella forma del tagalong quindi del diritto di covendita rappresentano limitazioni se la vendita da parte del socio di maggioranza sia sottoposta alla condizione sospensiva risolutiva della vendita anche della partecipazione di minoranza cioè io non venderò a meno che tu non venda questo è già un po' più forte ma non sempre c'è una condizione forse oppure nell'ipotesi in cui ci sia un obbligo di acquisto a carico del socio di maggioranza qualora il terzo non sia disposto ad acquistare la partecipazione del socio di minoranza la forma più forte di limitazione secondo me si realizza nell'ipotesi in cui la clausola sia scritta così il socio di maggioranza trova un terzo acquirente se il terzo acquirente non è disposto ad acquistare anche le azioni dei soci di minoranza alle stesse condizioni allora ci sarà uno spacchettamento cioè ci sarà una costruzione dello stesso numero di azioni che il terzo acquirente è disposto ad acquistare ma composto al suo interno da una parte delle azioni del socio di maggioranza e proporzionalmente da una parte delle azioni dei soci di minoranza questa si sarebbe una limitazione perché evidentemente rispetto a quella parte di azioni in venduta sarebbe un diveto di alienare quindi qua probabilmente non potrebbe durare oltre cinque anni questa chiaramente sarebbe una come dire una modalità accessoria molto più forte drag along obbligo di covendita trascinamento anche qua il socio di maggioranza non subisce un vincolo alla circolazione delle proprie azioni né tantomeno il socio di minoranza per il quale badate bene il problema è piuttosto il contrario perché il problema che si pone e lo vedremo tra un poco rispetto alla validità i limiti di validità sia dei patti che delle clausole soprattutto delle clausole è che a carico del socio di minoranza ci potrebbe essere il rischio di una espropriazione quindi tutto meno che una limitazione nella circolazione delle azioni viceversa una forzosa acquisizione quasi un forzoso riscatto da parte di un terzo mediante per il mezzo per il tramite della negoziazione operata dal socio dal socio di maggioranza anche qua certo che una limitazione ci potrebbe essere ma solo se la clausola è scritta in un certo modo cioè solo a mio avviso se la clausola è scritta in questo modo fino a quando sempre come dire l'elemento generale trascinamento quindi se vendo tu vendi con me non solo ma finché io non vendo tu non vendi questa si serve una limitazione cioè un impedimento un vincolo rispetto agli atti dispositivi aventi ad oggetto le azioni dei soci di minoranza fino a quando e se il socio di maggioranza troverà un acquirente disposto ad acquistare le une e le altre ma se non è scritto secondo me non si può presumere che questa regola ci sia cioè sia implicita nella clausola di trascinamento e se non è implicita e non è scritta a mio avviso siamo fuori dal dall'ambito delle limitazioni della circolazione delle azioni conclusivamente su questo punto i i patti di covendita strutturalmente non sono non rappresentano vincoli alla circolazione delle partecipazioni azionari dal punto di vista degli obiettivi delle finalità delle funzioni mi pare che non abbiano quello di stabilizzare gli assetti proprietari né tantomeno il governo della società perché operano ancora lo ripeto in un momento in cui c'è un ricambio della compagine sociale e allora se non c'è né una finalità di stabilizzare gli assetti proprietari né comunque una natura una struttura di limitazione della circolazione delle azioni questo comporta una serie di ricadute tanto sul parasociale quanto sul sociale cioè tanto sulla dimensione parasociale delle clausole di covendita quanto sulla dimensione sociale allora sulla dimensione parasociale la prima è evidentissima siamo fuori dal perimetro applicativo dell'articolo 2341 bis quindi non ci sono problemi in ordine alla durata non ci sono i problemi legati al quinquennio di durata questo però ci conduce alla seconda domanda come dire la prima ricaduta è una ricaduta in termini negativi la seconda è in termini di questione e cioè e allora quali sono le condizioni i limiti di validità di patti parasociali contenenti clausole di covendita e da questo punto di vista se i patti parasociali relativi a covendita sono sostanzialmente patti innominati o atipici dovranno superare prima di tutto uno scrutinio della meritevolezza degli interessi perseguiti occorrerà interrogarsi su peculiari requisiti di contenuto e infine sulla più opportuna tecnica redazionale al fine di assicurare la maggiore efficacia e coercibilità agli accordi tra i soci tra i paciscenti tra i parasoci per converso sul piano della dimensione sociale delle clausole di covendita anzitutto non è necessario inserirle in statuto per evitare il problema della durata perché il problema della durata non c'è neppure nel patto parasociale chiaramente il tema può essere invece quello della necessità o della opportunità ai fini di attribuire un'efficacia reale che il patto parasociale non potrà mai assicurare infine se non si tratta di limitazioni alla circolazione delle azioni chiaramente siamo fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 2355 bis e quindi non c'è il tema dei contrappesi rispetto alle limitazioni tema dei contrappesi che però viene recuperato dalla giurisprudenza in termini di necessaria equa valorizzazione della partecipazione del socio che si accoda e soprattutto del socio che viene trascinato ma soprattutto non si applica il secondo comma dell'articolo 2437 e quindi se non sono limiti alla circolazione delle azioni non siamo così sicuri o meglio io sono abbastanza sicura ma questo è piuttosto irrilevante la giurisprudenza ritiene che non possano essere introdotte a maggioranza cioè non si applica quella norma che ha reso evidentemente e finalmente diritto positivo la introducibilità e la sopprimibilità delle limitazioni e la circolazione delle azioni a maggioranza se siamo fuori da questo ambito perché non sono limiti allora risorge il problema e non saranno mica introducibili all'unanimità in considerazione della portata invasiva incisiva e la giurisprudenza si esprime in questi termini allora cominciamo quindi dal piano parasociale dicevo scrutinio di meritevolezza contratto atipico mi pare che problemi non ce ne siano gli interessi si intestano in capo a tutti i soggetti che partecipano all'operazione trilaterale socio di maggioranza socio di minoranza terzo acquirente in buona sostanza si realizza una fuoriuscita di concerto con una tendenziale massimizzazione dei corrispettivi a vantaggio di tutti mi pare che questo sia possa essere considerato un interesse meritevole di tutela e una causa meritevole di tutela direi che non ci sono dubbi quindi lo scrutino di meritevolezza è sicuramente superato e si esprime in questi termini il tribunale di Milano del 2006 secondo punto particolari requisiti di contenuto a fini di validità e qua anche rispetto ai patti parasociali una parte della giurisprudenza il tribunale Milano 2008 richiama anche se in quel caso è una clausola statutaria richiama il tema della equa valorizzazione si paventa cioè il rischio che il socio di minoranza subisca una espropriazione della partecipazione rischio peraltro assolutamente condivisibile nel senso che il socio di minoranza non soltanto come dire vende la partecipazione ma può trovarsi a perdere assolutamente definitivamente la qualità di socio e a fronte di un corrispettivo che non contribuisce a convenire a negoziare perché è il corrispettivo negoziato fra il socio di maggioranza il socio di controllo e il terzo acquirente e su cui quasi sempre ha incertezza fino al momento della comunicazione della proposta irrevocabile d'acquisto da parte del socio di maggioranza allora questo problema tuttavia se può essere posto e lo vediamo tra un attimo rispetto alle clausole statutarie mi pare che non abbia ragione di porsi rispetto ai patti parasociali allora per il tagalong quindi per l'accodamento per il diritto di covendita mi pare che la questione sia totalmente strana c'è una facoltà di vendere alle condizioni pattuite con il terzo il socio di minoranza i soci di minoranza sono beneficiari sono liberi decidono in piena responsabilità in piena autonomia ma anche nel dragalong anche nel trascinamento anche nell'obbligo di covendita nel senso che stiamo parlando di patti parasociali retti dal principio unanimistico sono contratti il socio si è vincolato e quindi si può vincolare sia rispetto a un corrispettivo predeterminato sia rispetto a un corrispettivo non determinato ma determinabile per relazione in relazione alla contrattazione che farà lo stesso socio di maggioranza a maggior ragione se ci vediamo un mandato a vendere con rappresentanza secondo me può assumere liberamente l'impegno a vendere a quelle condizioni cioè rientra ancora nella sua libera disponibilità nel suo principio di responsabilità il rischio dell'espropriazione che pure c'è è assunto consapevolmente e liberamente d'altro canto il patto parasociale vincola solamente i paciscenti non potrebbe coinvolgere e vincolare eventuali successivi acquirenti delle partecipazioni di minoranza né intervivos né mortis causa quindi secondo me rispetto ai patti parasociali il tema dell'equovalorizzazione non deve trovare cioè non ha ragione di trovare spazio l'unico rischio civilistico sarebbe quello di un oggetto assolutamente indeterminato e non determinabile per relazione e anche qua si tratta come dire di scrivere in maniera corretta il mandato quanto al tema dell'efficacia e della coercibilità dei vincoli degli obblighi assunti con le clausole di covendita allora rispetto al tag along quindi al diritto di covendita qua tipicamente lo strumento è quello della clausola penale è lo strumento più utilizzato è lo strumento più facilmente utilizzabile certo c'è una enorme difficoltà nella quantificazione anticipata del danno e quindi forte è il rischio della riduzione ad equità della clausola penale e per questo si suggerisce da parte di sempre da parte degli orientamenti notarili di introdurre una clausola ricognitiva o dichiarativa della congruità della somma patuita a titolo di clausola a titolo di clausola penale rispetto invece al drag along quindi all'obbligo di covendita al trascinamento qua francamente la clausola penale sarebbe un rimedio molto modesto ed immodesta entità qua però secondo me sovvengono i modi di costruire dal punto di vista civilistico le clausole perché nel mandato irrevocabile a vendere con rappresentanza si realizza la vendita con un unico negozio anche della partecipazione del socio di miglioranza quindi si elimina in radice il rischio dell'inadempimento da parte del socio di minoranza che non può sottrarre il proprio consenso alla negoziazione alla dismissione ma anche nell'ipotesi della opzione a favore di terzo nel momento in cui il terzo dichiara di volere profittare nei confronti dello stipulante l'operazione è conclusa quindi ripeto Tegalong clausola penale con i rischi di riduzione di equità Tegalong costruzione chiara dal punto di vista civilistico tanto da non imporre la necessità di un nuovo consenso ma di trasferire con un unico e solo negozio dicevo però anche ricadute sul sociale e le ricadute sul sociale partono proprio dal problema della distinzione tra sociale e parasociale cui faceva riferimento il professor Bione cioè siamo sicuri che semplicemente trasferendo facendo un copia in colla del testo della clausola dal patto parasociale allo statuto la clausola diventi di per sé una clausola sociale con dimensione sociale e qua dovrebbe ripercorrere le tante accezioni in cui la dottrina ha cercato di declinare la distinzione fra sociale e parasociale criterio formale statuto sociale regole legate al principio maggioritario parasociale accordo separato regole contrattuali unanimità mentre quando si guardano i criteri sostanziali è un po' più difficile perché parasociale riguarderebbe esclusivamente i rapporti tra soci e non tra soci e società riguarderebbe interessi individuali e non interessi dell'intera collettività riguarderebbe l'organizzazione e non singoli soci solo taluni soci e non tutti ciascuno accoglie mi pare una parte una parte del vero ora se si adotta come mi pare ultimamente faccia con assoluta tranquillità dal professor Costi la regola formale ciò che è in statuto è sociale ciò che è fuori dello statuto è parasociale nessun problema se si adottasse però anche una visione più sostanziale secondo me il criterio più ragionevole è quello che chiama in causa l'organizzazione pur con tutte le ambiguità implicite nel concetto di organizzazione legate anche alle forse tante propaggini della scuola romana ma certamente sono clausole che tendono a favorire il ricambio del controllo elevando contestualmente il valore di scambio delle partecipazioni indirettamente incentivando l'investimento in società sono clausole che hanno un rilievo di tipo organizzativo quindi credo che sulla dimensione sociale potenzialmente sociale della covendita nell'una e nell'altra accezione si possa convenire ma vanno introdotte all'unanimità o a maggioranza ripeto la inapplicabilità dell'articolo 2437 secondo Coma pone il problema e il problema al problema è stata data una risposta dai notai del Triveneto e dal Tribunale di Milano nel 2011 in termini di necessaria regola unanimistica addirittura si è parlato di una condizione primaria di validità evidentemente il tema della introduzione all'unanimità e non a maggioranza riguarda solo il trascinamento solo la Tregalong perché nel caso della clausola di Tregalong ancora una volta è una facoltà attribuita al socio di minoranza quindi nessuna ragione di postulare un suo consenso all'introduzione di una regola si è fatta viceversa nella clausola di covendita obbligatoria quindi di trascinamento il modo in cui ragione il Tribunale di Milano è c'è una incisione sul diritto di proprietà una limitazione del diritto di proprietà così incisiva così invasiva che non è legittima non è pensabile se non con il consenso di chi quella incisione si trova a subire in buona sostanza il rischio della espropriazione che è un rischio come dicevo prima evidente e anzi certo potrebbe essere assunto solo e contemperato solo dal consenso contrattuale all'inserimento della clausola in statuto io sono critica su questa impostazione e faccio queste osservazioni mi sembra che qua si torni al problema del raccordo e della distinzione fra sociale e parasociale in altri termini così ragionando si immagina che pur inserite in statuto le clausole di covendita rimangano patti parasociali e quindi postulino necessitino di quel consenso unanime di quella regola unanimistica che è tipica dei rapporti contrattuali che sono altro rispetto alle regole organizzative dello statuto viceversa le regole statutarie a mio avviso sono tutte modificabili a maggioranza ciò che l'assemblea può decidere o lo può decidere a maggioranza o non lo può decidere anche perché nessuno poi si spinge a chiedere un consenso contrattuale separato ma tutti richiedono o postulano il consenso unanime in assemblea che a me è sempre sembrato un controsenso una contraddizione quindi o sono parasociali e quindi pur all'interno dello statuto vanno introdotte soppresse modificate con consenso unanime oppure sono statutarie sono sociali e come tali vanno soggette al principio di maggioranza si considera che il diritto alla qualità di socio perché poi chiaramente il ragionamento di fondo il ragionamento teorico di fondo è quello della tutela dei diritti individuali del socio di quel mega diritto individuale del socio così come riconosciuto nella monografia di Buonocore che è il diritto alla qualità di socio il diritto a conservare la qualità di socio che in questo caso verrebbe un diritto che verrebbe rimesso alla discrezionalità quasi all'arbitrio del diciamo del socio di maggioranza e del terzo acquirente ora non c'è dubbio che il diritto alla qualità di socio con lo squeeze out del 111 test unico della finanza o paresiduale con le azioni riscattabili chiaramente riconosciute in tutte le società per azioni sia un diritto che possiamo definire con termine amministrativistico secondo me sempre molto efficace un diritto affievolito non più un diritto così assolutamente intangibile anche perché rimane il problema degli acquirenti delle partecipazioni di ignoranza che sarebbero vincolate dalla clausola statutaria ma che non avrebbero contribuito ad adottare con il loro consenso perché acquirenti in termini successivi quindi mi sembra e allora se se possiamo convenire sulla introduzione a maggioranza il tema si sposta di nuovo e definitivamente sul tema dell'equa valorizzazione cioè allora ha senso sì partire dal profilo dei diritti individuali del socio da quel diritto individuale alla qualità di socio alla conservazione della qualità di socio visto nella sua dimensione più prettamente patrimoniale cioè il socio ha il diritto di rimanere in società fino a quando lo desidera nel senso che ha il diritto di mantenere invariata la sua partecipazione la misura della sua partecipazione alla società con il quantum corrispettivo di diritti e di poteri amministrativi e patrimoniali valorizzare quindi in questo senso un'analogia un'analogia sicuramente relativa ma un'analogia quanto meno di effetto con le clausole di riscatto con le azioni riscattabili e quindi nel caso di clausole statutarie di covendita sì pretendere l'equa valorizzazione cioè pretendere che ci sia nella definizione delle condizioni di acquisto una soglia minima una soglia minima che è data dal valore legale di recesso una soglia minima di corrispettivo sotto la quale non si può andare che non è altro che la determinazione del valore delle azioni in caso di liquidazione per effetto dell'esercizio del diritto di recesso che non significa una determinazione del corrispettivo exante non significa limitare il libero mercato perché il libero mercato e la libera negoziazione fra il socio di maggioranza e il terzo ho finito avranno il loro spazio soltanto non si può scendere sotto quel livello perché sotto quel minimo ci sarà quel rischio di espropriazione e quindi verosimilmente la nullità della clausola in questo modo cioè tutelando il diritto individuale del socio come diritto di natura patrimoniale probabilmente si riesce a raggiungere un corretto equilibrio di interessi grazie anche la relazione della professoressa Pedersini pur apparendo con il contenuto in argomento modesto ha aperto ampi spazi purtroppo il tempo stringe per la semplice ragione che il professore Abriani ha un seno ci sarebbero tante cose da dire soprattutto più volte c'è trattato in questa distinzione tra sociale e parasociale sociale efficacia reale parasociale efficacia obbligatoria sociale statuto parasociale contratto io vengo poi da una scuola che in maniera spregiativa è stata chiamata la scuola del combinato disposto ma credo che varebbe la pena se non altro di ricordare che lo statuto è quel complesso di norme che regolano il funzionamento della società ora mi sembra che c'è una norma che quantomeno vada tenuto conto perché vedete quando si tratta di accordi tra soci semplicemente tra soci che non attengono all'assetto funzionale della società al funzionamento dei rapporti tra i loro soci attribuire efficacia sociale al semplice fatto che una determinata regola viene inserita nello statuto può dar luogo quantomeno tra qualche dubbio ringrazio tutti i presenti ripeto direi se ci sono delle domande se c'è qualche domanda da io ho trovato interessantissimi molti gli spunti la bellissima relazione che ha fatto Elisabetta Pedersini e tra sociale e parasociale mi piace segnalare un'ipotesi tra tante fattispecie ibride incestuose direi mostruosa nel senso latino di Ovidio della metamorfosi c'è una interessante che ho visto in recente che permette le azioni riscattabili che prevede a un certo punto qualora uno o più soci stipulino patti aventi per oggetto per effetto l'esercizio di diritti sociali dovranno comunicarlo alla società quindi è previsto nello statuto che se un obbligo in capo i soci di comunicare l'esistenza alla società e a un certo punto 5-6 articoli dopo si prevede che sostanzialmente tutte le azioni siano riscattabili e si prevede che qualora uno dei soci abbia violato gli obblighi contemplati dei patti parasociali comunicati alla società ai sensi del precedente gli altri soci indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno al patto parasociale potranno nella specie erano ovviamente tutti aderenti al patto parasociale erano 4 soci potranno riscattare pro quota le sue partecipazioni naturalmente al prezzo di cui al 2437 ter quindi al fair value salvo poi imputargli le penali ma non in quel contesto le penali per inadempimento che chiude un po' il cerchio in una questa visione molto interessante tutto il fatto che non siano limiti alla circolazione che tra l'altro pone anche le premesse in una dimensione ora di favor per l'IPO di imprese forse potrebbe ripensare sull'AIM soprattutto certe clausole per favorire uno dei temi che sono all'ordine del giorno che stanno molto a cuore ad esempio il presidente Vegas è quello di favorire la quotazione di piccole e medie imprese ed è una delle ragioni per cui si ammette l'ultra attività delle categorie di azione a voto plurimo nelle società quotate emesse prima o anche proprio in funzione un attimo prima della quotazione bene in questa logica voi sapete che si ritiene che siano incompatibili i limiti alla circolazione con la quotazione uno degli ulteriori corollari che potrebbe arrivare a quell'impostazione che clausole di quel tipo sarebbero compatibili con la quotazione almeno in una prima fase perché poi certo un allargamento e un passaggio ad altri al mercato vero e proprio dell'AIM potrebbe creare problema dell'operatività concreta per cui nessuna borsa consente la quotazione di nessun regolamento interno quando vi siano meccanismi che siano così farraginosi di fronte a decine di migliaia di azionisti da imporre comunicazioni è chiaro che dal punto di vista pratico operativo sarebbero impensabili però su un piano teorico invece nel momento in cui vi si ravvisa questo incentivo al ricambio al mercato del controllo societario in realtà sono assolutamente in linea con la disciplina delle società quotate mentre ad esempio rispetto all'SRL secondo me il tema più interessante è se possano essere introdotte in statuto come diritti particolari cioè il problema della compatibilità cioè se usciamo dal 2469 appunto secondo la mia impostazione per cui non sarebbero limiti alla circolazione della quota se potrebbero essere previste all'interno dello statuto come diritti particolari chiaramente passando per una per una lettura estensiva e non analogica delle due esatti diritti relativi all'amministrazione alla distribuzione degli utili quindi leggere diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili come comprensivi di tutti i diritti a caratura patrimoniale in questo caso sarebbe un diritto a caratura patrimoniale da realizzare non durante societate ma nel momento della dismissione della partecipazione mi sembra la cosa più interessante ecco cioè la statutarizzazione in questi termini se volessimo tirare le fila ecco rispetto alle clausole di covendita in ordine alla distinzione fra sociale e parasociale nel momento in cui si dovesse accettare l'idea che l'equa valorizzazione è necessaria solo nelle clausole statutarie il patto parasociale potrebbe da un certo punto di vista essere più conveniente cioè potrebbe lasciare più libertà di manovra questo sì certamente rimane il tema della coercibilità ma ripeto scrivendola bene secondo me una clausola di drag along in realtà è coercibile quindi temo che su queste possa ancora vincere il parasociale nonostante tutto bene possiamo allora chiudere a questo punto ringraziare ancora i relatori per la loro cortesia per la loro solita cortesia ripeto la cortesia e salutare tutti i presenti buonasera grazie a tutti